Amici sportivi di Prime, buona serata, guardate che colpo l'occhio, accanto a me Massimo Abresini. Ciao Sandra, buonasera a tutti. Grande spettacolo di luci per creare l'atmosfera, 30.000 spettatori, li vedete inquadrati in questo momento. Ecco uno stadio dallo stile architettonico inconfondibile, l'Allianz Parche di San Paolo. L'attesa è finita. Chi farà la partita? Alexis Sanchez senza ombra di dubbio, unisce una velocità pazzesca a grandi doti tecniche e questo gli permette di saltare l'uomo con grande facilità. E lui è anche andato vicino a gol, un paio di conclusioni veramente notevoli, dall'altra parte la sua prerogativa. Lo scambio tra i due. Di nuovo lui. Ritornato a sinistra. Lazovic. Cabrari. Arpiona bene. Cabrari. Lazovic. Prova, è pronto per il tiro a giro. Lasagna. L'ha semplicemente sbilanciato, non troppo cattivo questo intervento. Quadrato. L'autostrada per lui. Gran dribbling secco. L'ha semplicemente sbilanciato. Più lontano che può. Zona tiro per... Prova anche lui! Prova a mettere ordine. Cerca l'avventura. Eccolo nel mucchio! E' in vantaggio. Marella. Gli affida il pallone. Zeccherini. Prova subito in lancio, ma stavolta è intercettato. Ancora alimenta l'azione lui. Palla che si intende... No, no! Ci arriva ancora una volta! Questa è un paradissima parata. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Lo lancia. Lo attacca, allora si torna. C'è la Noglu. Era tanto tempo che non si volevano stati così pieni. E così rumoroso. Laci profondità. Tocco per lui! Gli sfugge il pallone. Rimane lì, attenzione. Non passa però. Freddo. Spara via. Intercettato il pallone. Spara via. Senza guardare. Recupera. Prova ad approfittarne! Palla a Lazovic. Fermata pericolosa per lui. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Ancora lui. Di nuovo il giro palla. Riconquista palla. Prova a tiragiro! La c'è un gol! Grande girata! La palla prende ancora più velocità, toccando terra in fila. E lui che avvia e poi trova un varco preciso, chirurgico. Difesa davvero pessima. La zona davanti alla porta va presidiata meglio. Probabilmente i difensori non si sono capiti. Andiamo da Alessio a Tarquinio. È uno di noi, è uno di noi, è uno di noi, così continuano a cantare i tifosi. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Prova a scatenarsi. Parte il cross, attenzione! Più lontano che può. Buono il taglio. Va incontro lui. Un po' di confusione, preferisce spazzare via. Dialogano bene i due. Marella. Alla è. Lo supera. Zoratiro, attenzione. Deviazione! Murato. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Ma dove va bene? Se l'è cavato in qualche modo. Complimenti per lui. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Primo tempo a P100.